Quando mi sono detto sarebbe interessante vedere qual è stata l'evoluzione del numero dei parlamentari durante i ormai quasi 160 anni di Unità d'Italia. Ebbene, siamo partiti con una Camera, perché il Senato è stato di nomina a lungo, per cui andrebbe bene ai grillini, perché quelli che sono di nomina non contano. Comunque è piuttosto numeroso, poi è diventato elettivo soltanto con la Costituzione. Ebbene, la Camera invece c'è da sempre, ed è da sempre elettiva da quando c'è l'Unità d'Italia. Nel 1861 c'era, è stata una legislatura, l'ottava legislatura subalpina, è stata una legislatura di addirittura più di 600 deputati. E l'Italia all'epoca aveva una estensione geografica assai inferiore e aveva 22 milioni di abitanti. Poi c'è stata un'evoluzione demografica e anche territoriale, per cui all'avvento del fascismo l'Italia aveva circa 39 milioni di abitanti e aveva circa 550 deputati. Lo Statuto Albertino non stabiliva il numero preciso dei deputati, c'erano dei meccanismi che poi lo determinavano, ma sempre intorno ai 550 deputati. Mussolini arriva al potere con le elezioni del 1924, nel 1929 si devono tenere altre elezioni e Mussolini fa passare una riforma per la quale i deputati scendono a 400. Guarda caso, proprio un numero si vede che piace a una certa categoria di persone. C'era anche un altro poi nel dopoguerra, ma questo interessa di meno. A 400 deputati. Questi 400 deputati però avevano un vantaggio rispetto ai 400 o 630 di oggi, che non dovevano rappresentare tanti partiti, ma uno solo. Non dovevano rappresentare 60 milioni di cittadini, ma soltanto 40. Di questi 40 milioni, soltanto 14 avevano diritto di voto, perché le donne non votavano, i minori non votavano, ma erano molto più numerosi percentualmente di oggi. Oggi invece hanno diritto di voto 49 milioni di persone. La cosa straordinaria è che dopo dieci anni Mussolini si stufa anche di quel sistema e cambia il nome a questa istituzione, senza cambiare nulla, neanche regolamenti, eccetera, e l'istituzione diventa la camera dei fasci delle corporazioni. Di quanti componenti? 949. Allora, io penso che se persino Mussolini li ha ritenuti pochi, quando c'era un solo partito anziché tanti, quando c'erano 40 milioni anziché 60 milioni di cittadini, quando c'erano 14 milioni di elettori, che poi elettori si fa per dire all'epoca del fascismo, anziché 49, credo che ci vorrebbe prudenza anche ad oggi, anche oggi, anche per una serie di altri motivi, ma questo era il mio messaggio. Grazie. Grazie Lucio, mi sembra assolutamente prezioso il contributo anche in termini storici.